Musica Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Questo che avete appena visto non è altro che il trailer che va a presentare la nuova struttura che si trova proprio su rapide rischiose Infatti da qui potete notare che mi trovo a rapide rischiose ma rapide non esiste più ragazzi Lo avete visto dal video, sembrava che su di essa stesse cadendo all'inizio un cubo, infatti lì mi ero già un attimino fermato E ora tutti voi vi starete chiedendo ma che cosa sarà questa nuova struttura presentata qui a rapide rischiose Ieri avete visto tutti quanti che è stata implementata una nuova modalità chiamata creativa Dove possiamo divertirci con tutti i nostri amici per creare qualsiasi cosa su Fortnite Quindi è una modalità divertente che si va ad aggiungere a quella che è il Battle Royale del Save the World Siccome con questa nuova modalità creativa si andranno a creare sicuramente delle cose splendide al suo interno Le cose più belle ma anche le più ingegnose verranno direttamente prese dal team delle Epic Games E portate qui proprio su rapide rischiose, quindi su questo blocco per essere presentate a tutti i giocatori Quindi magari ci potrebbe essere un giorno anche la vostra creazione qui sopra a disposizione di tutti i player di Fortnite Quindi ogni singolo player da ogni parte del mondo vedrebbe la vostra creazione qua sopra Non so ogni quanto andranno a prendere le diverse creazioni, per quanto tempo poi le faranno rimanere qui sopra Quindi non so nemmeno quanto durerà la rotazione stessa da una struttura all'altra Qui intanto le cose sono super buggate LOL Lì si vede anche la bandierina di un kart ma vabbè Comunque eccovi spiegato che cos'è questo The Block presentato ora a rapide rischiose Il tutto comunque credo che partirà intorno al 13 dicembre Quando questa modalità sarà resa disponibile a tutti quanti i player Quindi maggiore info poi verranno pubblicate nei prossimi video ragazzi Non perdetevi anche le guide che sto pubblicando per quanto riguarda il pass battaglia Povero il nostro rapide rischiose anche se molto probabilmente ritornerà Spero che vi abbia fatto piacere sentire questa mini news Mi raccomando lasciate tanti like al video Condividetelo con tutti i vostri amici perché magari ancora non hanno visto questa zona Dato che dall'alto quindi dalla mappa stessa che possiamo aprire dal gioco Non è cambiato nulla ma è presente solamente in game Quindi una volta che andiamo a visitare quest'area Un salutone da Martex Ciao brothers